La prossima cosa da fare è prendere la lava per fare l'ossidiana, per poi fare l'enchanting table. Intanto ho piattato anche delle sugarcane, in modo che crescano e mi danno tante cose belle. Una cosa che vorrei trovare è un bel pozzo di lava, così ci facciamo un botto di ossidiana in due secondi, senza che debba andare per il pozzo sotto terra. Ogni buco in Minecraft ti richiama comunque, è come nella vita reale. Vorrei andare a vedere che cosa c'è dentro, ma so che mi perderei per ora in posti che per ora non mi servono, quindi resisterò alla tentazione e andrò avanti a cercare il mio pozzo di lava. Guarda come ci provano, guarda come ci provano. No, resisterò. È inutile, resisterò. Non ci vado dentro, ok? Resisterò. La cosa negativa di non aver trovato nessun mob nella scorso episodio è il fatto che... Non ossa, non posso avere lupi. Potremmo incontrare anche dei panda, eh. Sarebbe figo perché mi piacerebbe fare una sorta di zoo in questo... Anche se è un'idea un po' scontata. Però mi piacerebbe fare una sorta di zoo dentro a... Uh, scheletro. Abbiamo un po' di osso. Uh, lava. Lava. Oddio, ma è un pezzo solo. Che tristezza. Oh, aspetta, 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 aspetta. Ok. Ok. Ok, questa situazione è stata parecchio pericolosa. Devo finire la mia avventura in modo molto triste, ma... Dio ha voluto darmi un'altra occasione. Io che ho solo ammettato che non vedevo mob. Io comunque mi guardo sempre le spalle perché il problema di questo posto qua... è che i creeper mi possono letteralmente spawnare in testa. Quindi quello che devo fare è spararmi ogni due secondi e in generale stare in ansia. Siamo qua ad altezza già a meno dieci, quindi potremmo trovare tranquillamente anche dei diamanti. In reality. Tipo quelli che ho appena chiamato. Ma va bene anche così, eh. Io mi cago addosso. Quando ci sarà il Warden lì, quel mostro nuovo del cazzo, mi cagherò addosso un sacco. Sarà effettivamente una cosa pericolosa in Minecraft. Mai visto in tutta la mia vita una cosa pericolosa in Minecraft. Dungeon. Apple. Sì, carino il fatto che l'abbiamo trovato, ma non troppo utile, secondo me. XP la fai, la fai XP, però. E lì vedo fonti di luce e mi attirano. Sono come una falena io. Let's go. E ci mettiamo a scavare. Consiglio per le persone che stanno iniziando. Per favore, non usate mai la ruota del mouse. Vi va a perdere troppo tempo ed è poco precisa. Usate il tastierino numerico. Lo so che all'inizio può sembrare difficile e barra tedioso, ma fidatevi, con il tempo imparerete a switchare blocchi più velocemente di quanto voi non abbiate mai fatto con la cazzo di rotellina. Ce la facciamo. Ok. Perché la maggior parte della gente si farebbe prendere dal panico e cliccare cosa a caso e cercare un'uscita freneticamente quando quello che vi basta fare è scavare in alto. Letteralmente, anche se sei su attacqua e ci vorrà un po' di più, ci vorrà comunque pochissimo rispetto a trovare un'uscita che magari non esiste in quella caverna. Se vi trovate in difficoltà, scavate sopra la vostra testa e avrete sicuramente una bolla d'aria per sopravvivere. Dovrei avere già dei libri pronti. Questa è una cosa buona perché non devo neanche usare le mie sugar cane, ma basta che uso la mia incredibile intelligenza. Una cosa dispendiosa sono i bookshelf. Infatti spero di trovarmi un villager che me ne vende a abbastanza poco, così non devo craftarmi più io perché sono... Sembra una stronzata, ma sono tipo leather che devi prendere dalle mucche, poi sugar cane che devi farmare, poi da lì devi andare a prendere il legno che vabbè, dici poco, però comunque devi prenderlo. Non vedo l'ora di avere instamining così non dovrò più fare questi tagli del cazzo che mi sono rotto i coglioni ormai. Il montaggio mi sta uccidendo, ragazzi. Allora, devo dire che questo posto qua è terraformato con il buco del culo. I villager che hanno fatto questo villaggio sono dei cerebrolesi. Beh, quale villager non è cerebrolesi esattamente? Mi sono scordato di dirvi il trick più importante di Minecraft, ovvero dovete mettervi il gioco in inglese, perché se parlate in italiano, anche in Minecraft, morite appena spawnate nel mondo a causa della morte, fa you died because you are a fucking Italian piece of shit and you must change your game to English, son of a bitch. Insomma, sì, dovete cambiare la vostra lingua. Non si può sentire, ok? Non si può sentire in italiano con Minecraft. Dovete giocare in inglese, siete dei poveri ignoranti se lo giocate in italiano. Sto scherzando, eh, prima che arrivano professoroni nei commenti, perché... E quindi... Già sto diventando troppo politico per i miei gusti. Perché voglio fare l'opus cementicium rosso. Però sono insicuro sul colore, perché se la faccio arancione potrebbe mischiarsi troppo con il tetto. Se invece la faccio rossa o gialla diventa molto simile a queste due. Io pensavo di fare i primi a mano e gli altri comprarli di bookshelf, ovvero di librerie. Però, adesso che ci sto pensando, ho visto un paio di mucche in lontananza, potrei fare una basica farm. Facciamo un buco dove mettere le mucche. O facciamo un bel resintino. Un bel resintino piccolino con le mucchine piccoline. Fai a culo, fammi fare un buco. Non ho capito. Siamo già arrivati a un'ora. Ma io che cazzo ho fatto in un'ora? Mettiamo già a costruire, va là. Mi sembra male così. Mi sembra che accolga bene, sì, sì. Qua lo ampliamo un po' in laterale. Andiamo a prendere altri fiorellini. La natura ci offre i suoi frutti e noi li cogliamo. Non ne vedo altri fiori. Il che un po' mi dispiace. Mi è crashato il gioco. Non va neanche contro l'alcance. È esploso il mondo, non capisco cosa sta succedendo. Aiuto, per favore, aiuto, aiuto, aiuto. Hello? Ho picchiato il maiale che era Aerobrine? Non ho visto gli occhi di questo maiale. Potrebbe essere stato Aerobrine. Sì, mi è crashato tutto.